Ok, let's go! Infatti non vi era piaciuta così tanto, e mi era piaciuta così tanto anche a me, dopo averla fatta con Cracky, con tantissima altra gente, e quindi sì, questa la farò da solo perché non abbiamo server, perché gente, non abbiamo server dappertutto, c'è un coso che si, non lo so, gira in tondo, ci sono io che gira in tondo, e possiamo cominciare, potete vedere che avevo già cominciato a crearla, cioè a farla più che altro, e Skyfactor Grid 2, 2, 2, 2.1, punto 2. Perché avevo appunto già cominciato a farla, però mi sono accorto dopo aver finito di registrare un episodio, anzi due episodi da 30 minuti, che non stavo usando l'audio, cioè non avevo il microfono attivo, quindi sì, sì, giuro. Comunque guardate quanto ci mette il mondo a generarsi con la Skyfactory, perché sento che non c'è nulla, guardate. E ha tutte le mod a caricare, ha 125 mod a caricare, boom, finito. Ok, quindi siamo qui nel nuovo mondo della Skyfactory, abbiamo già preso un Archivement, non si sa come. Thank you, Salfood Plus. What? Ok, 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 allora abbiamo World Domination with Open Blocks, un libro comodissimo che andremo a usare così. E abbiamo Materials in You, volume 1, che sì, non andremo mai a usare ma lo teniamo. Abbiamo l'Archivement Book e abbiamo la nostra prima torcia. Molto figo. Quindi possiamo cominciare a distruggere gli alberi, perché è questo che si fa nella Skyfactory. Spero che ve la ricordiate un po' dalla mia prima serie sulla Skyfactory. Comunque è uno Skyblock fondato che sfrutta il mod Ex-Nihilo. Spero innanzitutto di prendere un sapling subito, perché se non lo prendo sono fottuto, ma leggermente fottuto. Ok, quindi mettiamo una benchmark qui. Apriamola, pum pum, facciamo tutte slab. Perché la prima cosa da fare è espandere la piattaforma e cercare di prendere almeno un sapling. Perché se no la serie è già finita, perché se prendiamo il primo sapling... Ops, vabbè, lo tolgo dopo. Giusto per avere un minimo di spazio vitale. Ok, e dopodiché espandiamo... Mmm, cosa ho oggi con le slab? Espandiamo qui intorno. Per avere un po' di spazio dove camminare. Ok, allora. Molto bene. Tra il resto, non so se vi ricordate, nella prima Skyfactory... E c'era il gruttico delle piante accelerato. Cioè, io quando piazzavo una pianta o un albero, tipo cresceva all'istante l'albero. E siccome era comodissimo per la registrazione e vorrei averlo anche qui, almeno per i primi tempi, per i primi due episodi, tre episodi, essendo che non ho veramente tempo e voglio farvi uscire gli episodi abbastanza regolarmente, diciamo così, e mi giverò uno stack di Bommil, ma solo per i primi due episodi, poi ovviamente lo butterò via, perché non è una cosa legit. Però, ehi. È abbastanza necessario in questa serie, danno un stack, un tipo rego. Grazie. Grazie. Allora, appunto, come ho già detto, ma lo farò on camera, quindi... Ah, ero già, giustamente. Lo farò on camera, ma proprio giusto per... Cosa scrivo? E... Bone Mill. Uno stack di Bone Mill. Quando finirà lo considererò finito, oppure quando... Oh, jeeshit. Quando non è... Quando non mi servirà più lo butterò via. Proprio per velocizzare la registrazione, perché sennò è veramente lenta la Skyfactory. Cioè, bisogna aspettare una decina di minuti per ogni albero che cresca. Insomma, all'inizio ce ne vogliono parecchi. Anche dopo, eh. Comunque, non so. Solo una persona può capire quanto noi siamo... Posso fare il buon crook, vero? Non credo. Ok. Eh, sì. Un crook. Ah, si fa così. Ok, ok. Ok. Quindi. Tutto così. Poi vorrei farmi un paio di stick. Fare un crook. O due. E fare un'ascia. O due. No, una sola. Ok. L'ascia dovrebbe funzionare, perché c'era un bug nella precedente versione che stavo usando. Che era anche stata vista nella Skyfactory 2.0 che avevo provato a fare. Che però, ovviamente, come ho già detto, era andata in fumo. Che praticamente i tool non avevano effetto. Cioè, io prendiamo un'ascia, ma anche un piccone, una qualsiasi cosa, l'avevo proprio scoperto in camera. E non succedeva nulla. Proprio. Io spaccavo i blocchi e restavano fermi, così. Invece con l'ascia adesso funzionano, per fortuna, perché era abbastanza una pena. Allora, allora, allora. Vediamo di espandere un po' la piattaforma, ancora. Pum, pum, pum. Espandio in tutte le direzioni. E sì, questo è quello che farò per i prossimi 5 minuti. Prende albero, abbatti albero e vai con le slab, insomma. Perché non c'è molto altro che si può fare all'inizio della Skyfactory. Quindi, ci rivediamo tra 5 minuti. Oh, GG, è venuto l'albero. Ok, ragazzi, siamo tornati. Vedete che ho espanso un po' la piattaforma. E stavo scrochettando sull'albero quando è caduto il nostro primo vermicello della seta. Wow! Sono, tipo, contentissimo perché sono molto rari. E sono stato abbastanza fortunato a trovarlo. Quindi il prossimo albero che pianteremo, lo faremo. Voglio sempre avere anche un albero per il legno. Perciò, quindi, farò adesso un altro pezzo di terra. Quindi faremo il nostro secondo pezzo di terra. Siete eccitati? Secondo pezzo di terra! Allora, boom, trasformiamo tutto questo qui. Poi facciamo delle slab. E poi facciamo dei barili. Possiamo farne 4. Molto bene. Boom! 4 barili. E 8 slab che userò per rispondere la piattaforma più tardi. Ma al momento possiamo piazzare i barili così. Poi prendere 8 sapling e per fortuna ne abbiamo 9. Quindi 1 dobbiamo sempre averlo di riserve. Mi raccomando. E possiamo fare la terra in questo modo. Quindi adesso io spaccherò qui e qui metterò un altro pezzo di terra. Ora, inoltre, continuerò a espandere la piattaforma. E sì. Insomma, farò quello che vi avevo detto che avrei fatto per 5 minuti, anche se in realtà l'ha fatto per mezzo. Perché poi è caduto il nostro fantastico vermicello. E mi sono fermato a raccoglierlo. Quanto sei tu? 40%. Ok. Adesso mi servirebbe anche un metodo. Un altro vermicello. L'ho visto cadere. L'ho visto? Cadere. Perché tu sei una strana torcia, amica mia. Ah, ok, ok. Eri molto una strana torcia tu. Ok, quindi, 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 appena questo coso finisce, possiamo proseguire. Allora, io voglio salire lì sopra e tirare giù tutte le foglie. Quindi, arrivo subito. Appena faccio un altro blocco di terra. Posso salire un po' più in su. E prendere un po' più legno per salire ancora più in su e tirare giù tutte le foglie. Et voilà! Con la magia del video editing sono passati solo pochi attimi per voi. Ma circa 5 minuti per me e sono riuscito a tirare giù tutte queste foglie. Ora, 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 facciamo altre slab. Ed espandiamo ancora la piattaforma. Ok, per ora basta. Direi che per ora può bastare. Dopodiché voglio fare altri due pezzi di terra. Ok. E dopodiché voglio far crescere uno di questi alberelli, tenerlo piccolo. Per infestarlo con... Ah, vedete che ce n'erano due vermicelli. Infestarlo con i nostri vermicelli. Questi praticamente continueranno a infestarsi. Vedete che il percentuale, insomma, andrà avanti. E quando sarà al 100%, o comunque quando sarà più alta, potrà contagiare le foglie vicine. Fino a far diventare tutto l'albero infestato. Ok? Rompete le palle. Fino a far diventare tutto l'albero infestato, come hai già detto, appunto. E magari gli altri... Allora, scusate un momento perché mi è venuto in mente adesso le cose di terra. Potrei organizzarveli meglio, dopo li organizzo meglio. In ogni modo, noi ci risentiamo quando l'albero sarà tutto bianco perché potremo procedere con la nostra Sky Factory. E intanto farò un po' di arrangiamenti qui sulla nostra isoletta per rendere la nostra vita più confrutevole. Ok ragazzi, siamo tornati. L'albero ha finito di crescere. Qui ho appena finito di tirare giù un albero gigante. Abbiamo un bel po' di legna. Tra il resto, già che ci siamo, vorrei creare la nostra area crafting. Quindi, creiamo un po' di due crafting table. Facciamola diventare crafting session e una la facciamo diventare slab. Sapete che a me piace sempre... Scusate. Mi piace sempre disegnare la mia area crafting in una maniera abbastanza precisa. Dopodiché possiamo andare qui dentro e fare... Ops. Tutto legno. E fare quante più chest ci ha concesso. Sei. È un buon numero per cominciare perché possiamo metterne una, due e tre. Poi qui ce ne saranno altre e altre e altre. Però per intanto va bene. Qui possiamo mettere i nostri alberelli. Non siamo in vanilla, giustamente. I nostri assi. E basta. La nostra mela possiamo mangiarcela. E sì, dovremmo essere più o meno a posto. Vedete che da qua possiamo accedere alla chest. Qui possiamo accedere all'altra. E alla quella sotto. Ok. Comunque, adesso ci serve un group. Quindi facciamo un po' di stick. Perché il legno per fortuna ce l'abbiamo. Perché non si crafta il crook? E... Beh, così non di sicuro. Ah, ok. Deve essere craftato così, eventualmente. Ok. Ok, evidentemente sì. Ora che abbiamo tutto l'albero infestato... Tutto l'albero infestato, faccio notare. Da notare che abbiamo ancora dei sapling perché questo processo non ci darà sapling. In ogni modo, rompendo ci darà tanti termi e soprattutto tante stringhe. Che è ciò che ci serve. Spero vivamente di riuscire ad arrivare a 18 solo con questo albero. Perché sennò dovrò rifare il processo di infestamento. E credo di non riuscire ad arrivare a 18 solo con questo albero. Siamo a 10... 11... Dai, ti prendo. 14, 15... 16... 17... 18! 18 giusti! Grazie! Ok. Ah, possiamo anche rompere questa? 19. Ok. Tra adesso vedete come ho anche cominciato a fare un po' il bordo al nostro... alla nostra piattaforma. Quindi da so ci sarà sicuramente un knock log che ho dimenticato. Ma vabbè, andrò a toglierlo più tardi. Vedete che in più ho messo un po' la nostra terra qui. Qua voglio mettere in altri due. Lì sarà più o meno la nostra area crafting. C'è la nostra area alberi, mentre qui sarà la nostra area... dove vivere. Ecco, insomma. Possiamo creare, insomma, delle Silk Mesh. E che, combinate con il legno che ho lasciato qui. Combinate con due stick qui sotto. E il legno qui sopra. Boom! E il legno qui sopra ci crea una Oak Sieve. Il nostro sieve lo metterei qui per il momento. Cosa serve questo blocco simpatico? Che andremo ad automatizzare come delle bestie. E... Più in là. Non so se avete già visto la Sky Factory... Ah, eccolo, bastard. Non so se avete già visto la Sky Factory 1. Fatta da me e cracki. Ma... L'automatizzazione che avevamo fatto su questo coso era assurda. Quindi, ora, possiamo prendere degli alberelli e metterli qui dentro, insieme a degli altri che... Allora, farò al più presto delle cose per ricordarmi quale cesta e quale. Ad ogni modo, sì, possiamo mettere qui. Abbiamo la nostra torcia, che non so perché non è più al suo posto, ma vabbè. Prendiamo un'altra mela. Molto bene, molto bene, molto bene. Possiamo creare, intanto, già che abbiamo del legno, delle altre slab e degli altri barili. Tre, per intanto, potrebbero bastare. Perché non ne servono una tonnellata alla fine. E tutto il resto facciamo slab. E continuo a espandere, cioè a fare i bordi alla mia piattaforma. Ok, quindi facciamo i bordi. E... Et voilà! Ok, allora, adesso la nostra terra è pronta, sì. E possiamo siftarla, quindi possiamo setacciarla, qui dentro, per prendere il nostro primo... Le nostre prime tre stone, che non sono abbastanza, purtroppo. Quindi ci serviranno più alberelli. Lì c'è una... Bastardo, vabbè, ti verrò a prendere più tardi. E mettiamo qui un alberello, qui un altro. Bromil, ok. Bromil, ok. Tagliamolo con l'ascia che ho rotto. E quindi... Oh, che fortuna. Facciamone due. Che possiamo? Abbiamo fatta una, vabbè? Sì, vabbè. Ok, quindi togliamo tutto il legno da qui. E soprattutto dammi sapling. Perché sono quelli che mi servono. Ok, 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 ok. Ah, come mi piacerebbe avere delle forbici in questo momento. Ok, tagliamo questo albero. Oh, dammi questo sapling. Dammi anche questo. Quanti abbiamo? Cinque. Mi pianterei uno qui, uno qui e uno qui. Tagliamo questo albero. Ok, tagliamo giù le foglie. E dopo di che questo processo potrebbe aiutarci, dovrebbe aiutarci, ad ottenere la nostra prima cobblestone. Ebbene sì, signori, stiamo ottenendo la nostra prima cobblestone. Perché con quattro di queste stone che ho appena fatto, si crea la prima cobblestone. Ora, io con la cobblestone voglio cercare di riuscire ad arrivare più presto all'automatizzazione. Credo di riuscire ad arrivarci nel secondo episodio all'automatizzazione della creazione della cobblestone. Quindi, sì, abbiamo alberi piantati. L'automatizzazione della cobblestone appunto. Oh, ma abbiamo altri alberi qui. Mi manca uno. Ok, quindi, quindi, quindi. Mangiamo qui, abbiamo sei barbetti per il resto. Potremmo, mentre aspettiamo, creare delle cosine simpatiche. Facendo così e così. Creiamo delle pattern. Dopodiché facciamo così, facciamo così, facciamo così, così, così. Cosa è successo? Tinkers Weaponary! Abbiamo la Tinkers Weaponary su questo mod park. Interessante, interessante. Ok, abbiamo creato i nostri primi strumenti per la Tinkers Construct. Che è una mod che andrò a utilizzare abbastanza in questo pacchetto. La possiamo mettere qui. No, mettiamo qui a fianco al nostro shifter. Quindi, vediamo. Allora, ci serve Stencil Table, Part Builder, Tool Station... No. Tool Station e Pattern Chest. Giusto? Sì. Ok, questi cosi ci aiuteranno più in là perché ora non ho materiali. E posso fare una di queste? Sarebbe molto figo. Grazie. Ok, questa possiamo metterla qui. Credo, sì. E qui dentro, siccome la Tinkers Construct è una mod che utilizza moltissimi libri, andremo a mettere tutti i nostri libri. Ok. Allora, siamo abbastanza... Anzi, siamo messi molto bene, direi, come primo episodio. Ma stiamo registrando solo da 16 minuti. E non voglio lasciarvi con un episodio che non sia di 20 minuti perché cercherò di tenere 20 minuti di episodio per questa serie. Se riesco a tirare giù quel fottuto pezzo di legno. Wish. Ma... Spero tu mi stia prendendo in giro. Oh, fuori dalle balle. E cerchiamo che non ce ne siano altre perché già che sono qua sopra... Eh, eh, lo sapevo. Ma... Che braccia corte hai, Steve? Cioè, non Steve, Gabibbo, ma... Ok. E adesso voi foglie bastarde dovreste scomparire. Giusto? Spero di sì. Ok, torniamo giù. Ok, abbiamo il nostro secondo pezzo di terra... No, l'ho perso. E... Quello che mi è costato... Mi rifiuto di perdere un solo pezzo di terra. Devo utilizzare il Mamagnet. Ok, 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 ok. Shiftiamolo. Boom, abbiamo altre stone. Abbiamo 4 questa volta. Possiamo combinare e prendere il nostro primo pezzo di cobblestone. Che da solo non servirà a nulla. Però, almeno, è un buon traguardo per l'episodio. Non pensate? Non pensate? You don't think so? Quindi, possiamo aprire il nostro libro degli achievement e fare tutti gli achievement che abbiamo utilizzato oggi. Quindi, usa crook on a leaf to get sapling on a silkworm. Cioè, prendere un vermicello dagli foglie. Fatto. Fare la terra... Sì, fatto. Fare la terra abbiamo fatto. Fare l'albero col silkworm. Fatto. Usare un crook sulle foglie per prendere la cosa... La corda fatta. Craft a sieve. Fatto. Questo deve piovere. Craft cobblestone. Fatto. E questo abbiamo fatto. Abbastanza achievement per oggi, direi. Mi piace. I like it. C'è un'ultima cosa che vorrei fare quest'oggi. Ovvero, creare un martello. Boom bitch. Questo martello ci sarà molto utile. Perché noi possiamo piattare la cobblestone. Romperla con il martello. E ci darà la gravel. E voi direte. Ma, Marlo, ma la gravel non serve a un cazzo? Poi, volendo, comunque possiamo fare così e fare così per prendere la sand e la dust. E noi tutte queste tre cose possiamo siftarle qui dentro. Boom. Per prendere dei materiali. Per esempio, in questo giro ho preso il nickel. Da solo non serve a nulla. Dovremmo combinarlo in quattro e poi cuocerlo in una fornace. Che sarà il nostro prossimo obiettivo? Ovvero, costruire una fornace e avere il generatore di cobblestone attivo. Quindi, probabilmente, prima faremo il generatore di cobblestone e poi la fornace. Perché per fare un generatore di cobblestone, in totale, ci servono... Questo. Questo? Oh, adesso la creativa. Ok, figo. Ci serve questo. Quindi ci serve redstone. Ce ne serviranno undici. A meno che non riusciamo a procurarci un enderpearl. Quindi, della stone. Niente di che. Redstone. Ok. La cosa principale che lavoreremo nel prossimo episodio sarà prendere questo transfer node e ottenere della lava. Quindi, probabilmente, nel prossimo episodio lavoreremo ad un mob spawner qui lontano per risparmiare questo blocco di redstone ed ottenere un enderpearl. Lavoreremo ad ottenere della lava con un crossivole e quindi ottenere della clay che è abbastanza facile da ottenere e sperando che piova sempre. E, insomma, lavoreremo a tante cose fighe. Quindi, per il prossimo episodio, sperando che tutto vado, vada come prevedevo, come prevedo, ancora. Vedete che comunque qui ho coperto perché quando pioverà l'acqua entrerà in queste varie e noi potremmo usarla per fare quello che vogliamo. Ma non voglio tutti i varie di finita, però per esempio questi tre li voglio usare per piazzare i sapling, quindi mettiamo dentro tutti i nostri sapling e credo che ce ne manchi uno per fare un altro blocco di terra, esatto. E sì, quindi, possiamo mettere questo, 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 qui, questi, anzi voglio qui. E possiamo piazzare l'ascia sull'uno, questo qui, questo qui, questo qui. E per questo episodio è tutto, io vi ringrazio per la visione. Ad ogni modo, come ho già detto, questi tool station pattern, roba figa, tutto, throwing knife, oh my goodness, troppo figo. Ci servirà più in avanti. Anzi, potremmo creare, per il momento, per il momento, per il momentissimo, proprio per chiudere l'episodio in bellezza, potremmo creare delle pattern, ah, ci servono delle pattern, giusto, quindi facciamo così, boom, 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 si così, volevo fare così. Prendere queste otto pattern e metterle qui dentro, dopodiché noi possiamo prendere quelle che noi preferiamo, quindi voglio questa, e voglio, cosa serve anche, un semplice handle, ok, quindi non mi serve null'altro. Poi entrare qui dentro, con del legno, che dovremmo avere, sì, con del legno, creare una padella. Sembra che non possiamo farlo di legno, interessante, 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 non lo sapevo, quindi vediamo cosa potremmo creare. Potremmo creare, potremmo creare, potremmo creare un piccone, un'ascia, potremmo creare un'ascia migliore di quella che abbiamo. Quindi potremmo andare qui dentro, fare così, creare uno di questo, uno di questo, e... Ma perché non mi lasci fare l'ascia? Sembra che non possiamo fare nemmeno l'ascia di legno, sembra che il legno non serve più o meno a nulla. Ci serve della cobblestone, cosa che ho appena sprecato. Quindi potremmo prendere uno di questi sapling, piazzarlo qui dentro. Del resto sto infestando un altro alberello, quindi magari infestiamolo un po' meglio per fare andare l'infezione più velocemente. Teniamo sempre un vermetto di riserva, perché non si sa mai. E appunto, sì, per ottenere della lana e farmi un letto. Perché vedete che al momento i mob possono sfumare in tutta quest'area qui. E quindi, insomma, non sarebbe molto bello. Potevo, in effetti, pensarci prima, creare tutte le slab un livello sotto, così i mob non spawnavano. Però mi piace di più avere tutto così al blocco intero. Quindi, ehi, ehi, ehi. Sono cose che capitano. Possiamo prendere questa terra, sitacciarla. Boom, bitch. Prendere quattro stone e disattivare l'f7 perché non provo alle balle. Creare un pezzo di cobblestone. Questo pezzo di cobblestone, andare qui dentro e crearci una ascia. Questa ascia, possiamo creare un ascia. Facendo così e così. Boom, abbiamo un ascia. Che è molto migliore di quella che avevamo prima, perché è più tecnica. E perché è fatta con la Tinker's Construct. Se non capite cosa ho appena fatto, se non siete riusciti a capire cosa ho appena fatto, vi consiglio di guardare il mio mod spotlight sulla Tinker's Construct, che sarà a breve online. Quindi, non disperate. E capirete presto cosa stavo facendo. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Io vi ringrazio moltissimo per la visione. Se questa nuova serie vi piace, lasciate un like. Perché mi fa capire che la serie vi sta piacendo e che la continuo. Ricomincerò a caricare video abbastanza regolarmente da ora in poi. Spero di riuscirci almeno. Caricherò video più regolarmente perché se dico spero di riuscirci almeno sembra un po' uno schifo. E sì, io vi ringrazio per la visione. Vi rimando ai prossimi video che caricherò. E ho dimenticato il bombile. Wush. Ciao ragazzi. Boom. Medshot. Proviamo questa cetta. È lentissima. Sì, probabilmente la stone non è una cosa migliore che potevamo usare. Potevamo usare la stone anche per il manico. Comunque la Tinker's Construct, per chi se lo stesse chiedendo. E sì, lo so che devo chiudere il video, ma vabbè. La Tinker's Construct ci... Ci... Ci fa. Ci permette di avere degli strumenti modulari. Fatti molto meglio. Se prendiamo quest'albero perché sennò diventerà anche lui tutto setoso e non è quello che vogliamo perché vogliamo il sapling da lui. La Tinker's Construct ci permette di creare degli strumenti modulari. Quindi io potevo usare qualsiasi materiale per il manico, come potevo usare qualsiasi materiale per la testa, l'ascia, eccetera, eccetera. E in più possiamo mettere delle modificazioni. Adesso io credo di non poter usare il bombile. Oh, 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 posso creare un'ascia di bomb? No? Sì, posso creare un'ascia di bomb. Oh, facciamolo subito, facciamolo subito. Creiamoci un piccone di bomb. No, una spada. Così, pensavate che fosse finito l'episodio e invece no. Knife, Sword Blade Pattern. E se non sbaglio serve una handguard e uno stick. Ok, una handguard. Farò un po' schifo come spada, eh. Ve lo ammetto, farò abbastanza schifo come spada perché i materiali che abbiamo adesso fanno abbastanza schifo. E allora, andiamo qui. Dopodiché creiamo tutti questi con le ossa. Non possiamo creare una spada di ossa? Are you kidding me? No, come on. Vabbè, non possiamo creare nulla con quello che abbiamo adesso. Eh, presumo che andremo a crearci un'ascia di ossa. Quindi creiamo un'ascia di ossa. Così, proprio rapidamente. Servirà uno stick. Bush. Creiamo un'ascia di ossa. Così, proprio, super figa. Ascia di ossa. E vediamo quale sarà meglio. Lei o lei? Comunque continuiamo a spaccare blocchi. Vedete che questo skill level è close me. E noi si continuiamo a spaccare blocchi. Quindi, per esempio, fizziamo un alberello. Prendiamo il nostro bone meal che è rimasto in questo tavolino. Povero. Poverino. Povero il nostro bone meal. E facciamo un alberello. Questo episodio si sta dilungando. E taglio qui dentro. Vedete che questo va... Ah, questo va molto più veloce. Thank you. Quindi, per questo episodio, come già detto, tipo tre anni fa, è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Vi rimando ai prossimi video che caricherò. E ciao, ragazzi! Fui! 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 Fui!